Il vice segretario nazionale del PD e già ministro per il Sud Peppe Provenzano in città con il segretario regionale Michele Fine e l'onorevole Stefania Pezzopane con i dirigenti del territorio per parlare dello stato dell'arte del contratto istituzionale di sviluppo del cratere Centro Italia, previsto con l'ultima legge di bilancio, una dotazione importante di 160 milioni di euro finalizzato a sostenere la crescita economica delle aree colpite dal sisma del 2016. Provenzano chiede di accelerare, ci sono progetti interessanti e questo è uno strumento molto importante, a questi fondi poi si vogliono aggiungere anche ulteriori 50 milioni di risparmi, ha sostenuto l'onorevole Pezzopane. Provenzano ha lavorato molto a questo obiettivo quando era ministro del governo Conte perché le risorse sono notevoli, ha voluto fare il punto della situazione propa all'Aquila prima del passaggio a Teramo. L'obiettivo dichiarato era far partire i progetti entro l'estate, alcuni comuni hanno presentato già i loro progetti, anche interessanti, in conferenza erano presenti molti amministratori del territorio. Abbiamo immaginato che bisognasse andare oltre la ricostruzione, mettere in campo un progetto di sviluppo per creare lavoro soprattutto per i giovani, le donne di questi territori in modo che non siano costretti ad andarsene come per troppi anni abbiamo visto. Il CIS è stata un'idea con Stefania Pezzolana e con altri deputati del Partito Democratico che abbiamo messo in campo. Adesso il nuovo governo è chiamato ad attuarlo, noi gli chiediamo velocità nel farlo e soprattutto il lavoro che vogliamo fare come Partito Democratico è quello di stimolare le amministrazioni locali, tutte le realtà territoriali per partecipare a questa stagione di sviluppo. Ma poi c'è il lavoro che avevamo fatto, che avevamo impostato con il governo precedente e che per fortuna è stato confermato dell'oltre miliardo e mezzo sullo sviluppo delle aree terremotate nel piano nazionale di ripresa e resilienza. Quello è importante perché il CIS da un certo punto di vista è un'anticipazione di questo lavoro, quindi quello deve funzionare bene. La ripartizione di queste risorse va fatta sulla qualità dei progetti, questo è il tema fondamentale. La Pezzopane ha detto di aver chiesto al Presidente della Regione più volte di attivare un tavolo, qualcosa si è mosso, le amministrazioni si sono messe in moto e ora c'è un programma, ma chiediamo alla Regione, al Ministro Carfagna ha detto, di essere veloci. Ha parlato in rappresentanza degli amministratori anche il Sindaco di Cagnano, Iside Di Martino, che ha sottolineato la bontà dell'iniziativa. Abbiamo necessità di continuità e questo chiediamo al governo, ha detto, anche in tema di supporto alle amministrazioni locali. Ci sono progetti che riguardano infrastrutture, settore economico e turistico, noi abbiamo necessità di far presto, dobbiamo cogliere l'opportunità, altrimenti i nostri comuni non avranno la forza di rialzarsi.